Da questo punto di vista, lo ripeto, io credo che al di là dei nomi, Napoli è una città che ha bisogno di un grande progetto, che parte dal territorio ma è un progetto nazionale perché è una città che merita e lo vediamo anche dalle persone che si impegnano in questi progetti e quindi siccome è una città che merita ha bisogno di un grande progetto di respiro nazionale, bisogna iniziare a ricostruire tutta una serie di cose. Da questo punto di vista non c'è dubbio, ma non mi possibilizzerei in questo momento sui nomi perché sennò riusciamo sempre ad andare solo sui nomi e non su una visione che dobbiamo avere nella città. Napoli merita e merita un progetto che sia avanti all'avanguardia. E a questo punto di vista in generale io penso che ci sono state già delle buone esperienze, ma come anche al nazionale c'è stata un'ottima esperienza di condivisione di tematiche e di alleanza deve continuare. Perché non dice la parola sugli espursi? Che cosa ne pensi? Presidente, lei come immagina? Posso soltanto una domanda sul futuro del movimento in generale? Perché in questo momento forse c'è bisogno anche di una visione per... Il futuro del movimento come tutti le cose future va costruita e la stiamo costruendo. sono molto tranquillo da questo punto di vista. Da dove si parte per ricostruire? Si parte da tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi che è tantissimo in poco tempo.